Cari amici di Fano TV, buonasera e bentrovati. In questo approfondimento in studio parleremo di due corsi di formazione gratuiti finanziati dal Fondo Sociale Europeo e gestiti dal Comune di Fano tramite la Regione Marche. E allora do il benvenuto e la parola al primo cittadino, il sindaco di Fano Massimo Seri. Buonasera. Buonasera a tutti i telespettatori. Questa è una buona notizia perché raccoglie più notizie, più belle cose. È un fondo europeo perché la nostra città, non dimentichiamolo, in questi anni ha fatto tante attività e ha accolto tante opportunità raccogliendo anche finanziamenti importanti per tutto il territorio. In questo caso sono due corsi che si legano ad una grande infrastruttura importante che andrà ad abbellire e a rendere più attraente, più vivace la nostra città, la fabbrica del Carnevale. E cioè la riqualificazione del Sant'Arcangelo che si sta avviando alla sua progettazione esecutiva e quindi noi ci stiamo già preparando per quella che sarà la sua gestione, che dovrà essere un luogo di forte attrazione per i nostri concittadini, ma anche per tante persone che decidono di venire da fuori o nelle zone limitrofe per vivere quel luogo. E per fare una bella cosa bisogna anche preparare le persone. Quindi questi due corsi si legano proprio alla fabbrica del Carnevale con due finalità. La prima finalità è quella della comunicazione, social web, ma anche quella di rendere partecipi e trasmettere le capacità che quel luogo hanno, le suggestioni, ma farlo vivere. La comunicazione è un elemento straordinariamente importante. L'altro corso è quello che riguarda l'accoglienza. Anche questo molto significativo e molto importante. Però mi piace ribadire un aspetto che è un corso interessante per tutti perché a prescindere dalla specificità per cui nasce, sono competenze che chi lo frequenterà potrà portarsi dietro anche per altre opportunità. Quindi è un'occasione che la nostra amministrazione con risorse del Fondo Europeo, ma per un progetto importante di riqualificazione e di opportunità per la città, diamo ai giovani che riterranno opportuno e che lo riterranno interessante. Tutto parte dal progetto ITI Urbano Pesaro-Fano. Il progetto è stato seguito da Ivan Antoniozzi. Buonasera. Buonasera. Allora Ivan, innanzitutto ti chiedo che cos'è specificatamente questo progetto ITI e poi come mai sono stati richiesti questi bandi. Sì, è una domanda che mi fa piacere perché mi dà l'opportunità di spiegare esattamente che cos'è l'ITI. Noi chiamiamo il progetto di riqualificazione del Sant'Arcaggio progetto ITI. Di fatto l'ITI è uno strumento che la programmazione comunitaria 2014-2020 per la prima volta ha disciplinato e istituito. L'ITI significa innanzitutto investimenti territori integrati. Ed è di fatto uno strumento che permette al beneficiario, in questo caso al Comune di Fano, di andare a tingere a più fondi, più fondi strutturali. Quindi il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo Sociale Europeo, eccetera, eccetera. E permette di attingere altresì a più misure di uno stesso fondo. Quindi è uno strumento che permette al beneficiario di fare progetti complessi. Come evidentemente è quello di riqualificare un grande edificio che ha anche un forte valore simbolico a Fano. Qual è quello dell'ex Collegio del Sant'Arcaggio? Ecco, questa amministrazione ha deciso di riqualificarlo e destinarlo alla fabbrica del Carnevale. Io credo che sia una grande intuizione perché Fano, città del Carnevale, così come riconosciuta tra l'altro statuterialmente dall'articolo 15 dello Statuto Comunale, non ha un presidio rappresentativo che funziona tutto l'anno. Il Carnevale, straordinario Carnevale, conosciuto ovunque, si spende, si fruisce, si usa per lo più le tre domeniche, le tre settimane, in coincidenza delle sfilate, dei carri allegorici. Il Carnevale a Fano è qualcosa di più, è sentito da tutti, è sentito da tutti da centinaia di anni. Merita necessariamente un luogo di rappresentazione permanente. Poi non vuole essere la fabbrica del Carnevale soltanto un luogo di rappresentazione, deve essere un luogo di produzione culturale. In questo senso intendiamo recuperare la nozione di Carnevale nelle sue ragioni storiche, nei suoi presupposti originari. È il momento per antonomasia della creazione, è un momento in cui originariamente si scombinavano anche i ruoli e le gerarchie sociali. Quindi è facile ricalibrare, riprendere questo concetto, riattualizzarlo in un'epoca appunto, quella della modernità, e pensare di fare della fabbrica del Carnevale un luogo creativo, un luogo di innovazione. Ed è esattamente quello che si vuole fare nella fabbrica del Carnevale, all'ex Collegio del Sant'Arcangelo. Scendendo ancora più nel particolare, la Casa del Carnevale ospiterà, diciamo così, alcune funzioni operative, alcuni servizi particolari. Magari questa è anche una definizione impropria. Comunque, tra queste ci sono il Museo del Carnevale. Anche qui non si vuole fare una mostra, non si vuole allestire una mostra di cimeli del Carnevale. Si vuole fare un luogo di rappresentazione dinamica della memoria del Carnevale dei cittadini fanesi. Cosa intendo con mostra dinamica? È una mostra che si rinnova, che si rinnova con cadenze che adesso decideremo, ma che si comporrà di ricordi e anche di prodotti audiovisivi che la collettività vorrà fornire, vorrà prestare alla fabbrica del Carnevale, al Museo del Carnevale e della fabbrica del Carnevale. Poi ci sarà un altro luogo assolutamente importante. Qui davvero si può segnare, questo è un segno della contemporaneità a Fano. Sto parlando del laboratorio creativo. Un laboratorio dove sicuramente si svolgerà attività didattica per i ragazzi, per i giovani, per istruirli e avviarli all'innovazione tecnica, all'informatica, all'ICT, all'Information Communication Technology. Ma poi quel laboratorio lì vorrà essere un luogo di contaminazione e collaborazione fra creatività, cultura e impresa. Lì si vorranno prototipare, si vorranno sperimentare congegni di elettronica, robotica, meccatronica, in funzione appunto di un nuovo modello, nuovo esempio di carro allegorico. Ecco, questo direi è il cuore della fabbrica del Carnevale. Ci sono poi anche altre strutture, non assolutamente secondarie. L'altra è la casa del jazz. E anche qui è evidente quanto un grande prodotto a Fano, ormai riconosciuto, quello del jazz, non abbia una sede fissa, non abbia anch'esso un luogo di rappresentazione. Ed è altrettanto evidente quanto il jazz, con la musica arabita, si sposi, accompagni le festività carnascialesche e il Carnevale, la natura del Carnevale. Quindi trovare anche lì dentro, nella fabbrica del Carnevale, un luogo di produzione musicale, è sembrata questa amministrazione, una grande possibilità. Ci sarà uno spazio di ristorazione, perché ovviamente questo deve essere un luogo animato e popolato da tutti i cittadini fanesi e ovviamente non solo. Un luogo di accoglienza, un luogo di confronto, di aggregazione sociale, certo di fruizione culturale. Un'altra funzione ancora della fabbrica del Carnevale sarà l'hub della mobilità dolce, diciamo così. Un luogo dove oggi noi scontiamo, basti camminare per Fano e si vedono tante biciclette sparse in giro, legate a un palo, legate a una canaleggia, oppure va anche detto quanto ci sia un commercio illegale di biciclette, di rubiere di biciclette. Noi vorremmo che nella fabbrica del Carnevale ci fosse, anzi diventasse la fabbrica del Carnevale, l'approdo del sistema ciclabile della città. Per chi viene da fuori e voglia fruire il centro storico di Fano, lì trova un luogo dove mettere la propria bicicletta. Ovviamente sarà un luogo automatizzato, dove è di fatto un parcheggio di biciclette automatizzato. Anche un luogo dove ci saranno delle ricariche per le biciclette elettriche. Insomma, un luogo che noi destiniamo a sostenere la mobilità dolce e a favorire la fruizione del centro storico di Fano a piedi, trovando nella fabbrica del Carnevale un luogo dove depositare in sicurezza le biciclette. Ecco, questi luoghi hanno un valore ovviamente fattivo e hanno anche un valore simbolico. Appunto, Fano vuole iniziare un percorso di innovazione, di crescita e di progresso, vuole dare un segno forte di incentivazione alla mobilità dolce, quindi in funzione della tutela ambientale. E ovviamente in quel luogo, con quel luogo, si vuole affermare l'attrattiva, anche in funzione turistica, della città di Fano. Non deve essere soltanto un luogo di attrazione turistica, certo, di sicuro, però deve essere innanzitutto un luogo con cui il fanese abbia familiarità, trovi immediata confidenza, si trovi bene e trovi cose da fare interessanti, sempre nuove e dove soprattutto possa anche, non solo fruire, ma partecipare alla creazione di qualcosa. Ritornando al laboratorio creativo, è il luogo di produzione di un'idea, è un luogo dove un'idea può trovare, con ovviamente tutta una serie di equipaggiamenti che lì ci saranno, e con competenze che quel luogo gestiranno, ci sarà la possibilità di produrla, di dare corso fattivo ad un'idea. Per essere ancora più concreti, ma qui sviluppando soltanto un minimo ambito di quello che si potrebbe far lì dentro, tutto un merchandising legato al carnevale, tutta una serie di prodotti di rappresentazione, di promozione del carnevale, potrebbero essere realizzati lì dentro, sulle idee che possono essere di tutti, e trovare magari un'impresa che li produca, o meglio ancora avviare una start-up d'impresa, per la produzione di tutta una serie di oggetti, e non solo oggetti, di racconto, di rappresentazione del carnevale a Fano. Questo insomma in linea di massima, quello che può essere quel luogo. Dico l'ultima, che forse doveva essere la prima, il progetto architettonico, c'è una firma, una firma autorevolissima, che di per sé vale, funziona da brand, è quella di Italo Rota. Italo Rota è un grande archistar, nelle sue installazioni artistiche, che danno forma alla fabbrica del carnevale, c'è un grado di innovazione, di novità, e secondo me di bellezza, che è straordinario. Quindi ecco, quello che si vuole creare, un luogo nuovo, è un luogo di bello, un luogo di attrattiva, un luogo di nuova aggregazione, di aggregazione sociale, e giovanile, insomma un luogo nuovo per Fano. Quindi, nell'ambito di questo progetto, come vengono inseriti, Ivan, questi bandi? Anche questa è una domanda fondamentale, per spiegare i meccanismi di funzionamento, anche di quel luogo, della fabbrica del carnevale. Allora, vi dicevo che sarebbe, e dovrà essere quel luogo, un luogo della partecipazione pubblica, un luogo dove ciascuno trova sfogo alla propria creatività. Ecco, quello che succede lì dentro, e i processi che lì dentro devono essere innescati, vanno innanzitutto comunicati. Cioè, bisogna creare una comunità che lavori al Sant'Arcangelo, nel Sant'Arcangelo, per il Sant'Arcangelo, per il Carnevale, o tutte quelle cose affini, legate al Carnevale, che ho sbrigativamente, cui ho sbrigativamente accennato. Quindi, una parte della comunicazione, e una parte delle competenze che qui vogliamo formare, è per la gestione, e la promozione di quel luogo. Per la comunità locale, in particolare. E poi, ovviamente, c'è un'altra competenza, con quell'altro corso vogliamo attivare. È, appunto, la promozione della fabbrica del Carnevale e della città di Fano. Ma non è una promozione spot, non è una comunicazione spot, quella che ci serve. È una comunità, è una community, quella che deve rappresentare, specie nei canali social, immagino, una città che nel Carnevale si riconosce, nel Carnevale in queste forme si riconosce, e che rappresenti il Carnevale, un nuovo Carnevale, come un elemento di massima attrazione per la città. Queste competenze che vogliamo formare sono competenze che certo possono trovare impiego nella fabbrica del Carnevale, per la promozione della fabbrica del Carnevale, ma anche in tutte quelle altre strutture di accoglienza, della recittività e di promozione turistica di Fano. Ecco, questo è il senso di questi corsi legato al progetto Sant'Arcangelo, al progetto fabbrica del Carnevale. L'organizzazione e la gestione di questi corsi è stata affidata ad un'azienda che li seguirà naturalmente insieme al comune di Fano, la Cometa SRL, in rappresentanza della quale abbiamo Erika Landini. Buonasera Erika, benvenuta. Buonasera a tutti. Grazie. Sì, come hai detto tu, sono in rappresentanza di Cometa SRL, un ente di formazione che sarà a supporto del comune per la gestione di questi corsi. Ente di formazione accreditato alla Regione Marche che lavora in questo campo ormai da quasi 12 anni. Entrando nello specifico di questi due corsi, sono tecnico del marketing turistico e addetto alle attività di accoglienza e di promozione turistica. E quali sono le finalità di questi corsi? Ok, allora sono, innanzitutto sono due corsi di qualifica. Tecnico del marketing turistico, mira a formare personale che sia in grado di fare un'analisi del contesto, un'analisi obiettiva di quelle che sono le caratteristiche del territorio, per poi attivare tutto un piano di comunicazione e di strategia di marketing per valorizzare quel territorio ed avere una competitività rispetto all'offerta turistica diciamo che c'è nel mercato. Mentre l'addetto alle attività di promozione e di accoglienza mira a formare quel personale che appunto si occupa di queste attività di accoglienza proprio da quando arriva il turista nella scelta, anche nell'accompagnamento della scelta di alcuni servizi anche attraverso la descrizione di caratteristiche di servizi già attivi nel territorio fino a una fase finale di raccolta di feedback per il grado di soddisfazione anche del soggiorno. Per accedere a questi corsi bisogna fare domanda attraverso una specifica domanda di iscrizione che deve essere corredata dal documento di identità e il curriculum vita in formato europeo. C'è un limite di età per iscriversi a questi corsi, Erika? Allora, no. I requisiti fondamentali sono essere inoccupati e disoccupati e mantenere questo stato di disoccupazione per tutta la durata del corso e essere residenti nella regione Marche e avere un titolo di studio almeno di scuola superiore inerente ai temi che si andranno a trattare. Ci saranno delle selezioni che verterranno principalmente su il curricula che ci viene appunto fornito da ogni candidato un test scritto sempre inerente ai temi del corso quindi del percorso formativo e soprattutto un quello che è motivazionale che servirà soprattutto diciamo ai selezionatori di capire qual è il grado di motivazione diciamo e di interesse del candidato anche perché sono corsi abbastanza lunghi tecnico del marketing è un corso di 400 ore e ha detto all'accoglienza della promozione turistica invece di 500 ore importante che all'interno di questo percorso oltre alla parte diciamo teorica ci sarà anche una parte di stage che appunto seguirà tutta la parte che verrà fatta in aula e che permetterà agli allievi di andare a provare sul campo tutto quello che hanno acquisito durante le lezioni in aula il corso alla fine rilascerà quindi una qualifica una qualifica presa dal repertorio regionale dei profili professionali e quindi verrà rilasciato un attestato a coloro che avranno frequentato almeno il 75% delle ore di presenza e previo il superamento dell'esame finale perché ci sarà anche un esame finale che andrà appunto a valutare quali sono le conoscenze e competenze acquisite per presentare la domanda si può fare attraverso tre modalità distinte via raccomandata all'ufficio del protocollo in via Francesco Assisi 76 a Fano oppure a mano sempre allo stesso ufficio altra modalità invece più smart via online via PEC all'indirizzo del comune comune.fano chiocciola emarche.it Erika c'è un termine di presentazione insomma temporale sia per inoltrare la domanda e ci sarà anche una data insomma di inizio in cui saranno aperte le iscrizioni immagino sì esatto le iscrizioni sono già aperte e abbiamo due date tecnico del marketing turistico entro il 9 di dicembre mentre addetto alle attività di accoglienza di promozione turistica entro il 10 dicembre questo non significa che non ci possa essere la possibilità che venga prorogato se non arriviamo chiaramente al numero di iscritti tali da poter formare la classe infatti saranno selezionati 15 partecipanti più 3 uditori però chiaramente se le domande saranno di meno saremo costretti il comune sarà costretto a riaprire il bando quindi dare ulteriore tempo per potersi iscrivere e accedere appunto al corso perfetto sei stata più che esaustiva grazie io Erika ringrazio anche te per essere stata con noi grazie mille grazie Massimo Seri grazie grazie Ivan Antoniozzi grazie a voi buonasera a tutti ringrazio Riccardo Sora in regia tutti voi per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata con i nostri programmi grazie a tutti